anche stando presente alla messa beh non ho poi capito cioè voi quando fate le omelie si fate un sacco di parole però alla fine il succo di una cosa non è che si capisce tanto. Diciamo devi spiegare quello che vuoi dire allora diciamo vai a riasperare il concetto. E vabbè ma io vuoi sapere proprio in due parole proprio in sintesi il matrimonio cos'è? Abbiamo parlato ieri non è capito niente ma proprio in sintesi il matrimonio il matrimonio è un'arte il matrimonio è l'arte di risolvere assieme i problemi che da solo non avresti allora avevo capito bene regolato ma perché è divino ci vuoi